Oggi si celebra il 28esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono il giudice Falcone e i poliziotti della scorta. Su invito della Fondazione Falcone quest'anno, non potendosi formare cortei per via dell'emergenza sanitaria, lenzuoli bianchi sono stati appesi alle finestre. All'iniziativa nazionale lanciata da Maria Falcone, sorella del magistrato, ha aderito anche all'Università di Cagliari. Questo lenzuolo, ha detto la donna, è oggi divenuto centro focale di un movimento di risveglio di quelle coscienze troppo a lungo assopite dall'opressione mafiosa, simbolo di un paese che tra rabbia e sgomento diviene artefice del suo riscatto.